Ciao a tutti ragazzi, eccoci finalmente con un nuovo video, come sempre sono qui con Federica ad aprire un pacchettino per la rubrica Random Pack Opening e oggi ritorniamo su Evoluzioni. Un pacchettino preso in San Babila, in Duomo, no dov'è che l'abbiamo preso in San Babila o in Duomo? San Babila, perché da buoni milanesi abbiamo fatto un giro, cos'è che abbiamo fatto? Nel giorno di Santo Ambrose, oggi è Santo Ambrose, però voi lo vedrete fra un po' questo video, quindi l'abbiamo preso con queste bustine qua attaccate. Stavo vedendo, ma cosa è che c'è qua davanti? Eh, c'era il prezzo che l'ho tolto. Sì, no, ma è macchiato qua, dico, lo vedi che è rosso? È macchiato? Non lo vedo, vediamo. Sì, si vede tipo un'impronta, vero? Sì, tipo una cosa digitale, un'impronta digitale. Non lo so, vedremo, intanto sarà un altro Raticate, io dico, vediamo. Secondo me no, mi ha dato una buona impressione. Ahia, un'impressione non... No, ovviamente con le mie doti. Con le tue doti... No, secondo me andrà meglio rispetto alla tua scorsa. Quando si aprono bene i pacchetti, speriamo che Sant'Ambreso oggi sia Sant'Ambreso, va. Posizioniamolo bene, brava. Sta giù dritto. Ok, il nostro codice. Sì. Non può dare scattare. Uno, due, tre e uno e due. Cerchiamo di non far gaff. Procediamo. Ok. Eccolo, il nostro Macio, che sostiene la Terra. Cosa sostiene? Vabbè, sostiene qualcosa. Tu, come sempre, cos'è che dicevi che sosteneva? Sembrava sostenerlo. Sì, è un pianeta. Pianeta. Ti stancano anche di sentirlo chi vede questi video ormai. Ormai le comuni e non comuni le abbiamo viste tutte. Cerchiamo di parlare di qualcos'altro. Vabbè, parliamo di qualcos'altro. Poi, questo è il Pikachu bello, forse l'avevo già raccontato, il fatto delle guanciotte. Delle guanciotte, dell'ombra, avevi detto anche. Sì, ti avevo detto che in quelle vecchie, nella prima uscita dei prototipi di kart, diciamo, questo Pikachu aveva delle guanciotte rosse, ed erano nelle shadowless, quelle che non hanno l'ombra, ti ricordi benissimo. Certo. Mi piace molto questo Pikachu, devo dire la verità. Molto bellino. L'ho già trovato Reverse, Olo, e quindi ci piace. Doduo, non ho niente a dire. Se non della dinamicità di questa immagine. Ci vede bene. Sì, sì, si vede. Poi un Caterpie. Molto carino. Molto carino anche questo, ma niente di che. Un Drowsy. Già trovato il pacchetto scorso. Già trovato. Un Poliwhirl. Questo mi piace molto. Ti piace come disegno? Mi piace come Pokémon, l'ho detto anche l'altra volta, mi piace molto. Un bel Misty, determinazione di Misty, un allenatore, io li chiamo un po' l'addestramento, ma è un allenatore. Un legame mentale con Blastoise. Vediamo la Reverse di oggi. È un bellissimo Starmi, che forse avevo già. Starmi raro, quindi una carta rara, Reverse, vale qualcosina, in più della normale, carina. Vabbè, dai, carina. E poi, la rara di oggi, che è una rara, Psico. La rara Psico può essere solo Mewtwo. No, non ci sono. Sei sicura? Sono sicurissimo. Ah, un bellissimo Mew invece. Me l'ho scordato perché non ce l'ho. Abbiamo trovato questo bellissimissimo Mew Reverse. Dai, è andata bene. Andata bene. Questo Mew qua, da noi è arrivato in versione non holo, inglese, promo. Quindi, non tutti lo hanno visto, questo bellissimo artwork. Io penso che sia uno degli artwork più belli di Mew. Tiene ancora il fatto di avere dei PS bassissimi. Un attacco Psico, che non vuol dire niente. Quando fa lancio una moneta, se esce a testa, il Pokémon difensore è paralizzato. Però devo dire la verità che questo è l'unico Pokémon Psico che dovrebbe essere olografico di questo set. È molto bello, anche se l'olografia non è spettacolare. Ho visto parola in Polesia, è molto bello. È molto bellissima, Mew. Bella, bella. Siamo contenti oggi, allora, del pacchetto rispetto al solito. Visto, che io avevo sentito. Però io mi aspettavo qualcosa di più, una bella ex che non arriva da un po' di giorni. Ascolta, dai. Un po' di settimanale ormai. Però quella mi eseggio bene. Che brava che sei, sei proprio un'artista. Hai visto? Ci vediamo allora settimana prossima con un nuovo pacchetto. E niente, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.